Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale, come avrete già letto dal titolo in questo video andremo a parlare di DriveHub, l'ho ordinato direttamente dal loro sito, ho speso una roba come circa 140 euro se conti pure la spesa, o l'ho preso da, no no, l'ho preso da Amazon e costava di più, non l'ho preso dal sito perché mi chiedeva un metodo di pagamento che non avevo, ho detto senti lo prendo da Amazon, costa quel che costa, 140 euro compresa la spedizione tutto ed è un bel po'. Non è il classico video cosa serve DriveHub, come si setta, ci sono già video veramente a strafottere sul web e questo video qui serve a capire come utilizzarlo su PlayStation 3, Miche perché lo devi utilizzare su PlayStation 3 e soprattutto ci stai facendo un video? Perché non esistono tutorial su YouTube di come far funzionare questo DriveHub su PlayStation 3, anzi vi dirò di più, se contattate chi fabbrica questo oggetto qui e gli mandate un'email e gli chiedete ma funziona su PS3? No, andate sul sito con l'elenco compatibilità delle console, PS3 non è menzionata, già io vi dico che si può fare, state tranquilli si può fare. Trovo veramente assurdo che non ci sia in tutto YouTube un video per utilizzare questa geggio su PlayStation 3, un video in realtà c'è, io già l'ho trovato, ma in realtà non te lo spiega così tanto bene, perché a parte il fatto che il video è in inglese, in italiano non ne trovate ed è per questo che ho deciso di fare questo video, io non sono iscritto al suo canale ma lo troviamo su video piaciuti, DriveHub with PS3 testato, ok, il discorso è che lui nel video utilizza un T300, il T300 è già compatibile su PS3 con Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6, il discorso qual è? Che lui lo sta utilizzando perché utilizza sia il cambio Fanatec sia la pedaliera Club Sport V3, quindi quella che ho io. Il discorso che utilizzarci anche il Fanatec, ripeto parlo sempre di PlayStation 3, è diverso, cioè lasciate perdere tutti i video che vedete in rete e vi spiega, no? Guarda si collega nella porta controller, si collega nella porta accessori, lasciate perdere, vi spiego come funziona. Allora lui DriveHub, ripeto, l'ha testato con un T300, cambio Fanatec e pedaliera Fanatec Club Sport V3. Il discorso qual è utilizzando un T300 su PS3 con Gran Turismo 5 o Gran Turismo 6? Innanzitutto, prima cosa, non ti prende la frizione, non ti prende il cambio ad H. Sì, avevo sbagliato in quadratura, questa è quella giusta. Allora vi stavo dicendo, non prende né il cambio ad H e né la frizione, adesso vi faccio vedere che facendo come faccio io si può fare in realtà. Allora, come potete vedere lui sta testando tutto su PlayStation 3 con un T300, ripeto, pedaliera Club Sport e il cambio ad H di Fanatec. Sta provando qui adesso il freno a mano, non gli funziona, sta provando il cambio ad H. Leggete qua sotto i sottotitoli, ma tanto si capisce. Vedete, lui cambia le marce e lì non funziona. Uno gli ha commentato, ma non è che perché sei su un'auto da corsa, no. Vedete, c'è scritto qua, lui ha provato e su anche altre auto e in ogni caso non gli funziona. Adesso noi saltiamo alla postazione di là, vi faccio vedere come collegare questo qui. Vi ricordo che questo video è dedicato solo se avete un Fanatec GT DD Pro, che avete la versione 5 Nm 8, non cambia nulla. Vi faccio vedere come utilizzarlo su PlayStation 3 con il cambio ad H, con la pedaliera Club Sport, quella che volete, e con la frizione che funziona. Come potete vedere ci troviamo su Gran Turismo 5 e su PlayStation 3. Allora, per prima cosa accendiamo il volante. Io vi consiglio di tenerlo qui con il LED rosso, che vuol dire compatibilità con PC. Non ho provato le altre. Se funzionano o meno, tanto non cambia nulla alla fine. Vi darò anche una buona notizia. Questo qui tra l'altro non è originale, non lo si trova più originale. L'ho comprato perché poi ho sostituito l'SSD interno. Ti chiede, collegare il controller con il cavetto, la PlayStation 3 legge sia il DualSense di PS5 che il controller di PS4, ma non è compatibile il tasso PS. Quindi ho comprato questo alla 20-30 euro, che cazzo è, per riuscire a sostituire l'SSD e andare avanti nei meno. Ma non vi serve, state tranquilli che non vi serve. Adesso qui sarà un po' più complicato, però vabbè, più o meno se avete un drybub lo conoscete sicuramente. Non so se sta mettendo a fuoco, comunque in ogni caso partendo da sinistra avete il primo slot dove lo collegate direttamente con la console. Quindi ho già collegato il cavo, adesso lo colleghiamo al drybub. Avete poi il controller, controller o volante, quindi se volete anche usare un pad che non sia originale PlayStation, tipo Xbox, dovrebbe funzionare. Arrivati a questo punto. Infine lo slot per gli accessori. Vi dico anche che non servirà la maggior parte delle porte, nel senso che vi basta collegare semplicemente qui con l'attacco console. Vi faccio vedere da qui perché sicuramente la webcam qui fa cagare a livello di qualità. Quindi lo collegate qui direttamente alla console, poi collegate il volante direttamente o su accessori o su well controller, wheel controller. Potete collegarlo dove volete, l'importante è che non lo mettete direttamente su controller. Collegate solo il volante e collegate il drybub alla PlayStation 3. Basta. Quindi Fanatec acceso in compatibilità PC, quindi con la spia rossa, iniziamo a collegarlo alla porta wheel controller o accessori, tanto non cambia un cazzo. Volante collegato. Spegnete tutti i controller collegati, non deve esserci collegato nulla. E nonostante il sito, oppure quelli che l'hanno creato, che se li scrivi in email e li chiedi spiegazioni a livello di compatibilità, ti dice che non è compatibile su PlayStation 3, ve lo dico subito, è compatibile. Infine colleghiamo il drybub. Vediamo che cosa succede. Si entra. Ok, qui vabbè appare USB. Qui iniziano a lampeggiare. In realtà non ci ho capito un cazzo, ma va bene così. A questo punto... Funziona. Ma che bello. Però aspetta, perché se tu lo colleghi senza drybub, io questo volante ormai l'ho preso tipo 4 mesi fa, avevo provato poi dopo un paio di mesi, ho detto ciao, proviamo un po' Gran Turismo 5, 6 su PlayStation 3, lo colleghi, nel menu della console funziona, nei menu di gioco funziona. Una volta che entri in gioco, boom, non va nella pedaliera, nel volante, non va un cazzo. Mi raccomando, vi ho fatto vedere che ho collegato il volante e basta. Il cambio, la pedaliera, tutto qua. Non dovete collegare nient'altro, neanche pad, niente. Andate così, vedete che funziona. Ok, andiamo su guida. Dovrei avere qui la Mazda MX-5. Per cambiare visuale qual era? Funziona. Sterzo funziona. Allora, innanzitutto mi fermo. Vedete che fa a destra-sinistra? Adesso ci arriviamo. Ok, col 4 si cambia la visuale. A parte che questa ha il cambio sequenziale. Però lo prende in ogni caso, mi sa. Ti prende la fre... Cioè, scusami, se io... Si è spenta. Vabbè, quest'auto ha il cambio al volante, usiamo questo. Non ho messo l'inquadratura sulla pedaliera, ma tanto adesso vi faccio vedere che la frizione funziona. In ogni caso, non c'è bisogno di riprenderla. Perché si vede subito. Vediamo se... Vedete, eh? È andato in N. Qui il gioco ti legge... Porca troia, il cambio ad H pure... Su auto che non hanno il cambio ad H. Allora, vi dicevo poco fa... Del problema. Vedete che va a destra-sinistra? Dovete crearvi un profilo direttamente dal computer e... E giocare un po' con i settaggi. Io il feedback dal gioco l'ho messo a uno su dieci. Ok. Si è scollegato. Avrei preferito tirare fuori questo discorso dopo, ma lo devo fare adesso. Il lato negativo è che dopo un po' si scollega. E non c'è proprio modo di mettere in pausa, di fare niente, anche se tipo lì, sai, dici, sono in una gara, si scollega, cazzo, il gioco non si mette in pausa, è un problema. Vabbè, mi tengo qui il controller PS3, metti in pausa. Non si può fare, eh. Perché, sì, tu ti colleghi il controller lì, ma non te lo prende come controller 1, perché il controller 1 è questo, e quindi non potete mettere in pausa. Questo, purtroppo, è l'unico lato negativo. Non sono riuscito a capire il motivo per cui fa così, però non credo neanche si possa risolvere. Il lato positivo è che non dovete fare nulla. Scolleghi l'hub e lo ricolleghi. Funziona. Senza dover scollegare 300 cose. Questo, purtroppo, è il lato negativo. Vabbè, considerando che tanto, vabbè, si gioca in single player, però anche lì può essere un problema, perché in gare serie potreste... Eh, non potreste. Andate lunghi e... E niente, raga. È l'unico lato negativo. Un bel lato negativo, ma che cazzo dobbiamo fare? Comunque, vi dicevo, vai in clipping il volante. Vedete che fa destra-sinistra, ma basta giocare con... con i settaggi dal pannello di controllo. Io qua sto utilizzando il profilo di assetto corsa-competizione, ma anche se metto quello di GT7 non cambia molto. Però si guida, raga. Il cambio lo prende, non ci sono ritardi. E non potete regolare la pressione del freno, nel senso, se avete una pedaliera con la cella di carico. Dovete pestarlo fortissimo. Io naturalmente su GT7 ho il... ho il settaggio del freno, l'ho abbassato tipo a un 68%. E quindi con il freno io su Gran Turismo 7 sono regolato. Qua... non lo puoi regolare direttamente dal gioco, dico, e niente, lo devi utilizzare come un freno... tosto, cioè devi pestare veramente tanto, perché se freno come freno su GT7 vedi a quanto sono. Non fate caso al clipping, sto giocando con profili casuali. Devo farmene uno dedicato a Gran Turismo 5-6 su PS3 e poi... boh, niente, nessun problema. Ok, direi che possiamo effettuare un'ultima prova con un'auto che ha il... che ha il cambio ad H. Proviamo Tokyo R246, dai, giusto per vedere un po'. Quale auto qui hanno il cambio ad H e chi cazzo si ricorda? Vabbè, F40 a sto punto, dai, andiamo sul sicuro. Questo ha il cambio ad H, ce l'ha. E ragazzi, comunque, piccolo off topic nel frattempo che qui carica, cavolo, ma c'è una bella differenza mettere l'SSD su PS3, eh? Certo, i SATA 3, quelli vecchi, però vi assicuro che rispetto all'hard disk meccanico ha già fatto. È comunque lento, è su molte cose, ma è comunque velocizzato in ogni caso rispetto a un hard disk tradizionale. Cazzo, peccato per sta roba che si scollega, figa, se no sarebbe veramente, veramente perfetto, sarebbe. Ok, mi fermo. Le marce le prende prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, si vede che non ce l'ha. E ho notato che non prende nella settima, vedete, va, rimane in N e non prende la retro, però sapevo, adesso non me lo fa perché sto registrando, è sempre così sta cosa, c'era un tasto che ti faceva mettere la retro, su questi vecchi Gran Turismo era così e boh, niente, oggi non lo fa più, ha cambiato. Se provassi a cambiare marcia senza frizione che cosa succede? Vai Nenne, vedete? Questa è la dimostrazione che la frizione sta funzionando. Proviamo un po'. Figa giocare con questi settaggi fa veramente cagare però, va tutti in clipping, guarda. Adesso provo le scalate col puntatacco ma dovrebbero funzionare. Se mi ricordo le staccate di sta pista, no? Era molto più avanti. Frizione. Funziona. Ok. Ragazzi, è da prendere comunque per quello che è. ecco, si è scollegato di nuovo. Si sta scollegando però più spesso rispetto a ieri che ho provato, eh. Ma che bello, danni superiori a Gran Turismo 7, non sto scherzando. Devo provare a cambiare il cavo di alimentazione di questo accrocchio perché dicono, non lo so poi, devo provare che il problema sia quello. Proverò a utilizzare un cavo più performante. secondo me è anche per il discorso che non lo supportano attivamente Drive Hub PlayStation 3 quindi bisogna diciamo mettere in saccoccia tutti i problemi che ne derivano. Purtroppo il problema è questo. Ripeto, però si sta scollegando più volte rispetto a ieri. Non so il motivo. Cambia d'h, funziona. Punta tacco si può fare. Non è sincronizzato il volante col gioco perché questo gioco è vecchio e la rotazione si fermava a 90 gradi. Anche con i settaggi giusti non... Porca troia. Eh, sì ragazzi. Anche con i settaggi giusti dicevo non lo risolvi, eh. La rotazione è proprio sminchiata di base anche con un volante nativo. Io avevo il T300 lo supporta in modo nativo ma... Cioè è proprio così il gioco. Il video che vi ho fatto vedere su YouTube di quello che lo stava testando con un T300 non li prendeva né la frizione né il cambio ad h. Certo. Però c'è anche da dire che non... non li si scollegava. Eh... Ragazzi, questo è l'unico lato negativo però... Cazzo, quantomeno posso giocare a Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6 farci delle live così così. Il discorso è che poi non puoi mettere in pausa perché cazzo si potesse mettere in pausa dici intanto devo collegare e scollegare un cavo il Drive Hub ce l'ho qua posso anche sopportare lo faccio così è veramente una bella rottura di coglioni. Però almeno adesso è veramente complicato guidare su questo gioco. Quanto meno adesso su YouTube c'è un video di chi ha utilizzato Drive Hub su PlayStation 3 perché di questi video non ne trovate e questo è il motivo per cui ho deciso di farlo. Basta ragazzi non c'è nient'altro da dire penso di avervi mostrato e detto tutto quello che c'era da dire e mostrare. Adesso se qualcuno vuole comprare Drive Hub per poter utilizzare ormai tutti comprano i Direct Drive perché non so ultimamente la gente ha soldi da spendere se ogni tanto sapete che ne so magari hanno la PS3 collegata alla postazione ogni tanto vogliono fare qualche giro su Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6 adesso con questo video sanno che Drive Hub si può utilizzare vi farò sapere magari se si può risolvere sta cosa che si scollega magari è il cavo originale perché è veramente veramente strano ultima cosa poi chiudo il video su Drive Hub esce la sigla E non so se sta per errore perché giustamente non lo non lo legge in modo nativo quindi magari non so va in sovraccarico di tensione non lo so ragazzi fa così e e basta cioè non so cos'altro dirvi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video io come sempre vi ringrazio per tutto il supporto ci vediamo al prossimo video